Benvenuti all'introduzione a Mentimeter presentazioni interattive Il sito e l'applicazione che andiamo a presentare è Mentimeter l'indirizzo mentimeter.com è uno strumento estremamente efficace per la realizzazione di presentazioni interattive il coinvolgimento con il pubblico e anche la comparazione e l'analisi di alcuni dati lo strumento è in parte gratuito poi superati certi limiti come in molti casi c'è la necessità di passare a profilo professionale ma può essere utilizzato anche gratuitamente entro i suoi limiti vediamo in sintesi come funziona all'interno della presentazione si possono inserire domande, quesiti o altro rispetto a cui si chiede una risposta dagli utenti gli utenti quindi dovranno andare sul sito www.menti.com con i loro dispositivi personali ad esempio con i cellulari o il computer da casa e inserendo il codice in testa alla slide potranno andare, accedere, dare delle risposte e queste saranno automaticamente incorporate e appariranno nella presentazione gli esiti in tempo reale sostanzialmente con uno scarto minimo è molto efficace anche per i modelli proposti andiamo quindi a vedere come funziona una presentazione una presentazione presenta ovviamente una serie di slide l'impostazione è quella classica possiamo ovviamente aggiungere slide o importare anche una presentazione già realizzata qui abbiamo un esempio che ho preparato proprio per vedere un attimo le funzioni principali quindi andare a inserire titoli e slide di testo statico andare anche a integrare con immagini integrare con pulsanti di interazione come i like o i cuori andare a presentare funzioni come le speech bubbles o altre opzioni di dialogo word cloud per andare a raccogliere le idee rispetto a un concetto andare a porre delle domande per le quale viene prevista una risposta o anche più vedete che nel menu a destra dà la possibilità di aggiungere una serie di risposte alternative che possono essere considerate accettabili quindi già andare a dare un punteggio rispetto a queste e poi andare a visualizzare i risultati rispetto alla partecipazione così si riesce a mantenere coinvolto un audience che non sempre è facile soprattutto in telepresenza mantenere attivo sul pezzo vediamo poi un attimo il menu che ci offre ovviamente la raccolta delle presentazioni la possibilità di upgradare il profilo a un'opzione a pagamento più professionale una gestione dell'account gli aiuti soprattutto interessante è inspiration perché ci va a mostrare alcuni esempi di strumenti utili che si possono realizzare come vediamo grafici a torta word cloud histogrammi e a seconda del tipo di necessità del tipo di utenza vanno anche a consigliare degli strumenti più o meno adeguati bene, termina qui la presentazione la brevissima panoramica che si voleva offrire di questo strumento rimanete sintonizzati iscrivetevi al canale per ricevere aggiornamenti e maggiori approfondimenti su questo e su altri strumenti molto utili per la didattica a distanza grazie a tutti